Roma deve avere maggiore fiducia verso i presidenti delle regioni che hanno saputo affrontare e superare la prima drammatica fase della epidemia. Stanno lavorando per saper affrontare con la stessa determinazione anche questa seconda fase e al tempo stesso lavorare per un post-epidemia che ci consenta la rivincita e la riscossa con l'impegno di risorse finanziarie importanti, focalizzando su poche priorità per evitare la fermentazione della spesa e soprattutto accettando le sfide di una Sicilia che non è più quella dei luoghi comuni e dei giudizi sbrigativi, a volte anche improntati a razzismo da parte di alcune testate giornalistiche, ma invece è una terra che ha dimostrato e dimostra di poter avere una sanità di qualità e che si candida a essere lab nel Mediterraneo in termini di ricerca, in termini di qualità di servizi per dare risposte a un mondo che bussa all'Europa. In questo momento sul Covid le attenzioni sono rivolte verso il Sud, sembra? È naturale perché è un po' dettato da pregiudizio di alcuni colleghi giornalisti, un po' perché si è ancora convinti che il Sud sia affollato da sregolati, da disordinati, da incoscienti, da gente irresponsabile, per carità non c'è dubbio che una sparuta minoranza ci sia di gente irresponsabile, ma noi abbiamo dimostrato a marzo, aprile, maggio di essere una comunità, un popolo assolutamente rispettoso delle regole e dobbiamo continuare a dimostrarlo perché non si può mettere un carabiniere ad ogni angolo, serve una responsabilità collettiva maggiore, collettiva ed individuale, possiamo emettere tutte le ordinanze che vogliamo, ma se non ci rendiamo conto che con il virus dobbiamo conviverci forse per più di un anno finisce con il dovere diventare incoscienti e farsi male, non solo per se stessi ma anche per la gente con la quale veniamo a contatto. Lei ha fatto anche appello al discorso del Ness, non tanto d'accordo, anche questo non fa appello al premio del Ponto da parlando. Sì, è un po' come quello che non ha mangiato per tanto tempo perché non aveva cibo, ad un certo punto si ritrova di fronte ad una copiosa lauta mensa e comincia a inghiottire tutto, dimenticando che poi c'è la indigestione. Voglio dire, noi oggi facciamo un mambassa di denaro pubblico che viene messo a disposizione dall'Europa, ma non dobbiamo dimenticare che si tratta in gran parte di denaro che dobbiamo restituire, perché si tratta di prestiti e allora spendiamo oggi ma consegniamo ai nostri figli e ai nostri nipoti una Italia fortemente indebitata con un debito che peserà sulle spalle e sulle teste dei nostri figli e dei nostri nipoti. Razionalizziamo quindi la spesa, mettiamo a disposizione quella di cui già abbiamo la certezza, evitiamo ulteriori debiti, il MES mi sembra davvero una soluzione che può rivelarsi peggiore del male. Secondo qualcuno questo rischia di diventare il paese dei sussidi stavano per così dire? Che l'Italia sia stato il paese dei sussidi e dell'assistenzialismo è fuori discussione, che il mezzogiorno d'Italia per decenni sia stato nutrito anche nella ricerca del consenso politico, attraverso i sussidi è anche questo fuori discussione. Adesso dobbiamo capire che la vera fonte di ricchezza è l'impresa e la Sicilia deve vincere la propria partita diventando la piattaforma logistica del Mediterraneo. Dobbiamo diventare appetibili nei confronti degli investitori stranieri, ma anche nei confronti dell'Africa, che fra dieci anni non sarà quello che è oggi, del Medio Oriente e del mondo arabo. Ecco perché servono poche ma significative infrastrutture, serve una medicina e servizi di qualità, solo in questo modo la Sicilia può benissimo guardare con fiducia al proprio futuro. Noi oggi stiamo immaginando e progettando un'idea di Sicilia per i prossimi 15-20 anni. Ieri il Sardegna di Guerra il Presidente ha detto che il numero dei ricopri al sud è in Sicilia e sono alti, e questo è il numero, è alto perché c'è un'emergenza, comunque la sensazione è grave. Dico che i numeri dicono tutto il contrario. Noi abbiamo poco più di 200 contagiati, la Campania per esempio ne ha circa 700. È chiaro che rispetto alle regioni del Mezzogiorno d'Italia non siamo in una condizione di emergenza, poi non ne parliamo rispetto ad alcune regioni del nord. Diciamo che noi con questo bollettino di guerra quotidiano dovremo avere a che fare per il prossimo anno. Alla fine ci stancheremo di dire oggi 200 contagiati, oggi 300 guariti, ci stancheremo. Dobbiamo conviverci e dobbiamo conviverci in un clima di cautela e di prudenza. Questo serve, poi quello che dicono i giornali del nord o quello che replichiamo noi dal sud conta poco. Stiamo tutti in guardia, usiamo la mascherina, usiamo i metodi che abbiamo già indicato sin dallo scorso mese di marzo, conviviamo con questo maledetto virus, non facciamone un dramma quotidiano e con l'ironia tipica dell'ottimismo di noi siciliani sapremo superare e affrontare anche questa condizione. Noi siamo un popolo che è caduto mille volte e mille volte si è rialzato. Un popolo che ha una grande capacità di sopportazione, un popolo che quando ha paura sa stare con due piedi in una scarpa. Ecco, oggi ci vuole un po' di cautela, un po' di paura e un po' di ottimismo. Questa è la ricetta. Lei oggi si è detto contrario al numero chiuso nelle facoltà universitarie. È una scelta legata al Covid e una sua antica convinzione? No, sono sempre stato convinto, lo dico da padre, perché un ragazzo a 18 anni ha il diritto di sognare di fare il medico. Il numero chiuso è veramente una follia, è un'ingiustizia. Il ragazzo deve poter credere di farcela. Poi se al secondo anno, se al terzo anno non è in regola con le materie, a quel punto si renderà conto di non essere adatto a raggiungere quell'obiettivo. Ma non si può con alcune decine di quiz dire a un ragazzo tu non puoi fare il medico, non hai il diritto di fare il medico. Perché è un ragazzo che a 18 anni spegne la speranza del proprio progetto di vita e è un ragazzo che abbiamo perso, per sempre.